bravo è buono è buona salata troppo partonato perché dove dove questa questa 10 cammelli una milione cammelli un milione dammi i cammelli dammi i cammelli quanti cammelli mi vuoi dare per mia moglie e dammeli a posto la lascio subito a te la lascio a te ok va bene a posto a posto dammi i cammelli dove stanno i cammelli prima a vedere prima a vedere prima a vedere i cammelli puoi dare la moja